Viaggiavano in auto a tutta velocità sulla strada statale 16 portandosi dietro sostanze stupefacenti per un valore di oltre mezzo milione di euro. E' la scoperta fatta dai militari della Guardia di Finanza nel corso di un servizio antidroga effettuato nel territorio di Mola di Bari. In manette sono finiti un uomo e una donna, entrambi residenti nella provincia di Roma, intercettati dalle fiamme gialle mentre sfrecciavano con la loro autovettura in direzione sud. Fermati per un controllo i due sono apparsi fin da subito nervosi oltre a non saper spiegare i motivi del loro viaggio in Puglia. Un comportamento sospetto per i militari che hanno così deciso di procedere ad un'accurata perquisizione del veicolo ed i risultati non si sono fatti attendere. Nel bagagliaio infatti erano stati nascosti 30 involucri rivestiti di cellofan contenenti complessivamente 51 kg di marijuana suddivisi in 30 panetti. Ma non è tutto, in auto i finanzieri hanno trovato anche due lattine di plastica da un litro piene di olio di hashish solitamente utilizzato come additivo alla marijuana per aumentarne gli effetti psicoattivi. Per la coppia è scattato immediatamente l'arresto mentre l'auto e tutto il suo carico è stata sottoposta a sequestro assieme a tre telefoni cellulari ed enero contante. Secondo le prime stime, una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato non meno di 500.000 euro. Grazie. 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 Grazie.